Se fai dropshipping allora hai bisogno di prodotti vincenti da vendere adesso ed in questo video andrò a dartene addirittura 10 più 1 di bonus che devi vendere adesso in questo mese quindi assicurati di guardare questo video fino alla fine e bentornati gladiatori in questo nuovo video speciale fondamentale se fai dropshipping in quanto andrò a mostrarti la top 10 più 1 di bonus prodotti vincenti Shopify dropshipping di questo mese quindi assicurati di guardare questo video fino alla fine e ovviamente se vuoi questo file potrò inviartelo gratuitamente tramite email quindi assicurati di fare le cose ovviamente in questo file ci sono i link dei competitors i link dei prodotti, i link delle Facebook ads se vuoi tutto questo file gratuitamente te lo invierò basta che prima di tutto ti registri al mio sito web montanabusinessonline.com e accedi alla versione gratuita di Montana Ecommerce Master che ovviamente è gratis poi mi segui su Instagram stefano montanarial e ovviamente ti assicuri di iscriverti al canale proprio in questo momento attivare la campanellina delle notifiche mettere mi piace e commentare qui sotto con l'hashtag Shopify dropshipping fatte queste cose mi scrivi in direct quindi tramite messaggio privato su Instagram e ti invierò ovviamente tramite email la tua copia quindi tutto questo file con tutti i link tutto quanto gratuitamente l'unica cosa che devi fare anzi le uniche cose che devi fare te le ho appena dette quindi assicurati di farle tutte per ricevere questo file gratuitamente ma adesso iniziamo col video e ovviamente iniziamo con Montana Wending Products ovvero il primo prodotto che ti metto a disposizione gratuitamente è appunto quello di Montana Wending Products ovvero un servizio che io e il mio team mettiamo a disposizione per chiunque faccia dropshipping ma anche chi vuole comunque scoprire prodotti nuovi e vuole iniziare a vendere con successo qualcosa che già sta vendendo è praticamente un servizio lo strumento migliore in assoluto per quanto riguarda i prodotti vincenti infatti ogni giorno andremo a darti un nuovo prodotto vincente nuovo appunto e vincente quindi che vende ogni giorno ti daremo anche tutto ciò di cui hai bisogno per venderlo quindi assicurati di dare un'occhiata ti metto il link in descrizione sia del mio sito web sia di Montana Wending Products perché hai veramente un mondo da scoprire e adesso ti faccio vedere esattamente con il primo prodotto che andremo a mostrare che cosa troverai in Montana Wending Products ogni giorno un nuovo prodotto vincente e ogni giorno per ogni prodotto vincente troverai esattamente tutto questo quindi prima di tutto l'immagine ovviamente è il prodotto vincente successivamente l'immagine ovviamente è la prima immagine il copy da utilizzare all'interno della descrizione della tua pagina prodotto il prezzo consigliato il livello di saturazione le statistiche all'express in questo caso abbiamo quindi questa levitazione magnetica UFO Bluetooth quindi una specie di lampada una specie di ornamento ovviamente con il link all'express le recensioni le vendite che sta ottenendo in questo periodo il top competitor su Facebook lo store competitor ovviamente sempre su Facebook cioè tramite Facebook quindi lo andiamo a cercare perché sappiamo che sta vendendo quindi è un competitor affidabile il video consigliato vediamo noi il video quindi tutto questo ragazzi per ogni prodotto ogni giorno un nuovo prodotto dovrete tutto questo ok? quindi il video consigliato da utilizzare per le tue inserzioni Facebook il copy consigliato per ovviamente le tue ads su Facebook e il target Facebook consigliato ok? poi infine la valutazione in generale con ovviamente l'effetto wow risoluzione del problema quantità interessi Facebook quantità pagine Instagram e potenziale di questo prodotto quindi come vedi hai tutto l'occorrente per vendere alla stragrande questo prodotto che come prodotto non è male perché è molto bello è molto nuovo è molto innovativo nel senso che non è facilmente trovabile in giro e ovviamente cattura l'attenzione ok? non risolve un problema ma comunque la nicchia home è la nicchia casa è sempre stata una nicchia veramente forte quindi è un prodotto assolutamente da testare e lo trovi ovviamente in Montana Winning Products che puoi ovviamente accedere mensilmente a 39 euro oppure annualmente pagando meno di un euro al giorno quindi capisci bene che veramente stiamo parlando di nulla per quello che ti diamo tutti i link in descrizione Montana Winning Products Montana Business Online Instagram Stefano Montana Real adesso continuiamo invece con gli altri prodotti della lista di quest'oggi partiamo dal primo apriamo ovviamente tutti e tre così vediamo esattamente di cosa stiamo parlando intanto qui aggiustiamo un po' ok aspettiamo che si carica perfetto questa è una luce andiamo a vedere intanto di cosa si tratta quindi luce led ok 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 che va dentro l'acqua o illumina l'acqua no no scusate illumina l'acqua ok quindi va messo ah mi sa nelle piscine aspettate finiamo il video vediamo se ok ok si va dentro l'acqua quindi è anche subacqueo magnetico ottimo si rimane attaccato eh questo è veramente interessante quindi è una sono delle luci decorative per mangiare una piscina infatti eh fighissimo costano praticamente nulla e ti permettono di decorare la tua piscina ma immagino anche la vasca da bagno come desideri veramente veramente prodotto top qua si può fare un bundle upsell e crosssell infinito ovviamente in base alle quantità ok qui abbiamo un'immagine con un'altissima qualità però sicuramente si possono utilizzare ovviamente le immagini le potete creare voi basta vi ordinare il prodotto ok qui sicuramente il sito farà dei bundle vediamo un po' il sito ok landing page ok immagini fighissime questa qua veramente è una landing page top guardate che bella questa immagine animata ovviamente fanno il bundle ok questo era scontato con il nome del loro brand sulla scatola ok ma anche non credo che lo facciano questo sicuramente drop shipping credo che facciano drop shipping direttamente vabbè sicuramente direttamente dalla Cina e qua un bel bundle lo vedete pacchetto da 4 risparmia 5% più ispezione gratuita perfetto decisamente top questo è un prodotto assolutamente da testare anche in Italia veramente veramente top andiamo a vedere le inserzioni che utilizzano ok facciamo partire il video mi dà un po' intanto ha un sacco di like 11.000 6.000 commenti e 3.900 condivisioni una marea video non eccezionale mancano anche i sottotitoli ovvero le scritte che consiglio sempre di mettere però sicuramente cattura attenzione perché è qualcosa di speciale colorato quindi assolutamente prodotto che ci piace passiamo al prossimo comunque c'è anche un discreto margine si può assolutamente testare andiamo avanti con il secondo prodotto ok questo è questa è una punta per il trapano ok sì infatti classico bundle per aumentare l'everage order value vedete ok mi piace mi piace praticamente lo sto studiando con voi con voi ragazzi sta praticamente cioè serve specialmente per il legno ok quindi è proprio super di nicchia super in target comunque lo store mi pare che sia general ok praticamente ok si è general si è una punta per il trapano per per il legno ok molto semplicemente quindi decisamente in target vediamo un po' qui il video ottimo guardate la qualità è ottima veramente veramente top quindi semplicemente lo apre cioè lo apre lo taglia lo separa ok 4000 like 4600 2683 3800 condivisioni veramente veramente top ok perfetto andiamo a vedere quindi il sito l'abbiamo visto il prezzo prezzo margine 26 si non so quanto si possono vendere queste queste punte comunque abbastanza costoso per essere una punta ma penso questo perché sia di qualità spero infatti si 4.9 900 ordini comunque immagini top queste immagini sono veramente di qualità fornitore sembra ok ah comunque tutti questi link ragazzi sono solamente illustrativi non dovete usare per forza questi link di aliexpress ok potete trovare una marea di fornitori più affidabili oppure utilizzare un dropshipping agent come vi spiego nel programma avanzato ok quindi ok questo è un altro prodotto ottimo un po' troppo di nicchia secondo me però vale la pena sicuramente testarlo passiamo al prossimo ok ok questo è praticamente un giochino per bambini no una doccia si collega alla penso vedi ci sono anche batterie quindi immagino che faccia anche rumore tipo stile giochino sì vabbè qualche suono vedi bambini nicchia bambini animali in generale è sempre ottima che comunque sono molto grandi quindi c'è molto engagement ovviamente per i bambini ok è normale quindi sicuramente vediamo un po' aspetto del margine 24 sempre su 24 dollari ok è una pagina prodotto top veramente veramente figa immagini qualità lo vendono a 35 ok costa un bel po' secondo me questo qua dovrebbe essere molto più economico però ok praticamente un giocattolo per fare la doccia per tenere i bambini contenti che belle queste immagini immagini pagina prodotto top assolutamente da scopiazzare un po' tutta proprio da avere i dropshippers pulita semplice con poca descrizione perché ovviamente cosa vuoi descrivere è un giocattolo ai bambini non servono descrizioni chilometri ragazzi servono molto di più immagini video animati come questo per convertire convertite molto di più con le immagini perché un'immagine vale più di mille parole ma in generale perché la gente è pigra e quindi non vuole mettersi lì a leggere i testi chilometrici ma vuole capire subito velocemente che cosa sta comprando ok che cosa fa quel prodotto per loro come può risolvere una situazione o in generale un problema andiamo a vedere un po' come come stanno facendo pubblicità un sacco di likes commenti visualizzazioni 336.000 video top di qualità top vedete con i bambini così come vengono lavati quindi è proprio dedicato ai bambini con un getto magari d'acqua molto semplice che poi prende adesso ci ho fatto caso prende l'acqua dalla principalmente dalla vasca ok quindi non si collega al tubo del al tubo della doccia vabbè allora è molto molto figo direi quindi aspira l'acqua dalla vasca e la vedi e ci lava il bambino prodotto top questo veramente ci piace ci piace assolutamente sicuramente è da testare anche in italia assolutamente passiamo al prossimo questa già lo vedo che è una specie di fionda vediamo un po' partiamo adesso dal video già lo vedo che è top descrizione semplice come spiego sempre io perché in verità il copy nel dropshipping non serve più di tanto ma servono le immagini e i video che spiegano esattamente cosa fa il prodotto in questo caso aggiungerei delle scritte scritte fighe sottotitoli che facciano capire esattamente come il prodotto può aiutare loro e in generale come risolve il problema o descrivere il prodotto in questo caso fionda potente professionale figa social proof 20.000 like 3.700 commenti 7.500 condivisioni veramente una marea sito web top ovviamente con websell foto di alta qualità 147 dollari un botto cioè veramente super super high ticket ah no 5 pezzi scusate 5 pezzi ok 147 136 infatti mi pareva strano anche perché il prezzo questo fornitore tra l'altro è top top fornitore top brand via dalla Spagna vediamo dall'Italia per l'Italia quanto ci mette adesso io sto in Polonia comunque ci mette meno di due settimane vediamo Italia uguale uguale però 13 dollari la spedizione è un po' un po' tantino immagini top di qualità vediamo il video in un sacco di un sacco di casi i video di Aliexpress sono veramente top ormai non è come quando ho iniziato io dove i video facevano schifo su Aliexpress anzi non c'erano proprio adesso sono dei video e proprio i video del diciamo del fornitore comunque della della pagina che vende su Aliexpress sono veramente di top quality la qualità vedete qua creano ma c'è pure il laser è fighissimo questo potente è fortissimo guardate che potenza ok veramente top prodotto veramente al top ok perfetto foto di alta qualità che sicuramente possono se utilizzate ma sul sito sono perfette guardate qua come fa a vedere esattamente cosa fa questo video pure scommetto che top stile tiktok stile reels fighissimo con l'uovo qui secondo me questi li usano anche per le ads sono ottimi anche per le ads per far vedere boom cattorò un sacco l'attenzione qualche scritta questo lo potete usare tranquillamente per qualsiasi ads levate i pulsanti di condivisione questo no ovviamente un po' più di recensioni questo sito è top perfetto veramente semplice senza troppe cose da dropshippers e ovviamente ti dicono compra e bandolo perché ci guadagnano molto di più ovvio vedete semplice questo qua questo metodo di bandolo non servono nemmeno le applicazioni basta che crei differenti varianti e c'è già il bundle fatto ok è molto semplice da fare perfetto altro prodotto top passiamo al prossimo ok questa è una barra per gli uccelli interessante molto molto interessante direi praticamente attira gli uccellini ci mette il cibo ok ok so che vedo bene è una barra sopra la quale gli uccellini si si mettono lì mangiano e quindi ovviamente ti fanno ti creano un giardino più bello credo vediamo un po' video eccezionale 85.000 like likes commenti 8.400 33.000 condivisioni super semplice vedete scritta veramente top poi hanno creato questo brand biology training aid ok anzi è tutto così con gli animaletti con gli uccellini che si muovono e fa vedere il prodotto come funziona fighissimo video top qui praticamente ok la lunghezza della barra bundle ovviamente sito top super quality fatto veramente bene pulito queste non sono necessarie ma comunque colorano un po' il sito i bottoni condivisione non servono made in USA questa pagina è tutta da scopiazzare ovviamente poi fanno anche il blog loro però non credo che sia un sito vero nel senso un private label credo che sia proprio un drop shipping trasformato diciamo travestito da da un drop shipping travestito da private label però vedete di nicchia infatti di nicchia io suggerisco sempre di fare store di nicchia rispetto al general store dove potete vendere tanti prodotti simili la stessa nicchia ovviamente da smettere più fiducia esattamente come questo sito questo sito è perfetto c'è qualcosa da migliorare migliorerei però è fatto veramente bene infatti questi fanno un sacco di soldi vedete fanno proprio parlano degli animali di tutte super nicchia veramente super di nicchia però vedete fanno mettono le foto di tutti gli animaletti di tutti gli uccellini fanno il blog come se fosse un sito vero però è drop shipping adesso te lo dimostro anche perché sicuramente la shipping policy non mente andiamo un po' infatti 5-7 business days che sono tipo due settimane quasi drop shipping ovviamente quelli sono i tempi in america che comunque è la spedizione più veloce 5-10 giorni domestic ah quindi fa prima la spedizione ah no sono spediti ok 5-7 giorni dopo l'acquisto ok poi altri 5-10 giorni comunque drop shipping ragazzi si vedete dai tempi di spedizione i brand veri i private label hanno comunque i tempi di spedizione sono 1-2 giorni fissi cioè di consegna perché hanno i prodotti lì li spediscono direttamente e non c'è non c'è problemi di tempi di spedizione quindi per farti capire che comunque questo sito drop shipping è fatto veramente da paura prodotto ottimo che cattura l'attenzione non risolve un problema però per quanto riguarda l'arredamento del giardino comunque non dico della casa perché non te li può mettere in casa questi però per il giardino è top veramente top vedete anche queste come le casette per gli uccellini che fighe assolutamente da testare anche questo passiamo al prossimo ti ricordo comunque adesso che siamo arrivati a metà che questo file con tutti i link di aliexpress dei competitor di facebook ads lo puoi avere gratuitamente ok puoi avere la tua copia gratuitamente devi solamente iscriverti al canale attivare la campanella delle notifiche mettere mi piace commentare sotto questo video con l'hashtag shopify dropshipping fare qualsiasi tipo di domanda adoro risponderti personalmente iscriverti sul mio sito web montanabusinessonline.com a montani ecommerce master 10% gratuito di tutto il programma avanzato può accedere gratis seguirmi su instagram stefano montanareal e ovviamente quando avrai fatto tutte queste cose potrai scrivermi in direct sempre su instagram e inviarmi la tua email e ovviamente riceverai tramite email questa copia della top 10 più uno di bonus prodotti vincenti shopify dropshipping di questo mese poi ti ricordo ovviamente c'è anche il montana winning products che è un servizio a parte per tutti coloro che fanno dropshipping ma anche chi vuole scoprire prodotti vincenti nuovi ogni giorno un nuovo prodotto vincente ogni giorno nuovo 39 euro al mese oppure 29 euro al mese con la debito annuale quindi meno di un euro al giorno e a disposizione tantissime cose video esclusivi consigli revisione gratuita dello store assistenza gratuita e ovviamente un nuovo prodotto vincente ogni giorno quindi hai tantissimo devi solamente farlo ok devi solamente andare giù in descrizione e cliccare sul link che trovi di montana winning products e montanabistassonline.com trovi tutto sui miei siti web quindi link in descrizione ma adesso continuiamo con il nostro prodotto abbiamo aperto il numero 6 questo è un un tavolo per il vino che si può tanto ovviamente questa è la pubblicità con un'immagine perfetta perché fa vedere esattamente che cos'è il prodotto comunque è colorata cattura attenzione di alta qualità è un tavolino per il vino con un mini vassoio che si mentre si conficca nel terreno quindi nel giardino 12.000 likes un botto commenti 5200 condivisione 3.800 questi hanno fatto una barca di soldi vediamo però il margine comunque è bassino quindi bisogna anche calcolare quello però sicuramente hanno venduto un sacco video di super alta qualità ovviamente sempre dall'express non ci delude ormai vedete si inserisce il vino i bicchieri il vassoietto decisamente top come prodotto non si trova facilmente in giro video animato perfetto fa vedere esattamente cosa fa molto semplice ma altrettanto accattivante anche sulla spiaggia fighissimo semplice da portare in giro vediamo come lo vendono 20 euro ok bundle ovviamente qui fanno 2000 bundle veramente tanti tutti un po' non complicherai troppo la vita alle persone che già hanno la vita complicata di loro intanto 10 mi sembra un po' un'esagerazione però potresti sempre provare a magari fare un bundle con un prezzo ancora più alto per far sembrare comunque il prezzo iniziale più più basso quindi per convincere più facilmente a comprare anche uno qua pagina prodotto non è male anche se i colori non è che mi piacciono tanto poi è troppo general senza logo cioè il sito non è un granché però sicuramente potete copiare queste immagini animate tutto quanto ok ovviamente poi qua fa un altro bundle quindi esagerato col bundle diciamo quel sito non è il top non è che mi fa impazzire tanto però sicuramente sta vendendo un botto perché comunque è un bel prodotto quindi questo sicuramente è un prodotto che in Italia in Europa Francia comunque paesi dove bevono tanto vino ma praticamente ovunque ormai è un prodotto da testare perché è veramente bello mi piace è sicuramente da testare anche in Italia passiamo al prossimo a facciamo ripartire ok il video non è il massimo praticamente sarebbe un insieme di vasi di plastica che si mettono sopra l'altro sicuramente è comodo ah per far crescere diciamo comunque le piante comunque è figo anche da vedersi ok 62.000 likes 12.000 commenti 30.000 condivisioni video carino si può fare sicuramente di meglio vediamo sull'express come lo hanno ok questo video fa schifo non fa avere nulla però almeno la qualità non è male niente non fa nulla questo video ok ok un vaso sono basi che di plastica che si mettono sopra l'altro combinati vediamo come lo vendono un bel countdown super fake general store mi fa impazzire però sicuramente stanno vendendo un sacco bel bundle ovviamente un classico qua l'hanno messo attaccato la parentesi cioè questo sito non è in granché però devo dire che le immagini sono veramente top top quality ok questa questo video animato vedere che belle le immagini immagini top assolutamente gli traducete tutta descrizione e provate a vendere in italia o in francia o in germania o altri paesi comunque anche in inglese lo potete stare quanta di margine è bassino immagine 20 dollari però va bene focalizzati sempre su sempre su prodotti con un margine più alto possibile mi raccomando vediamo questo qui il prossimo qua sul sito non lo hanno più ok questo praticamente è una decorazione con degli uccellini da attaccare al muro in giardino già non mi piace questo qua sicuramente il margine quanto lo puoi vendere una cosa del genere poco vediamo il margine lo vendero a 46 lo vendevano guarda è strano 46 dollari quel come regalo 164 mila likes 14.500 commenti 20.000 condivisioni e a quanto pare questo qua ha venduto un sacco credibile così con queste immagini semplice sicuramente anche il sito è semplice ma non so perché adesso non so perché non funziona la pagina cioè l'hanno cancellata semplicemente hanno cancellato il prodotto però questa immagine è così semplice ha fatto 164 mila likes ovviamente non dovete focalizzarvi sui likes i commenti ma se tutte queste persone hanno visto questa inserzione vuol dire che in verità molte più persone hanno visto inserzioni intanto quindi penso almeno un milione avranno visto questa inserzione ti fa capire comunque quanto hanno speso in pubblicità quindi spendendo così tanto in pubblicità per un prodotto del genere vuol dire che hanno venduto un sacco ok perché non è che si mettono a regalare i soldi a facebook ma semplicemente lo cioè lo fanno perché ci guadagnano ok fanno pubblicità così tanto e fanno vedere questa inserzione a così tante persone ok quindi focalizzatevi sempre su questo aspetto credibile questo prodotto chi l'avrebbe mai detto a me non fa impazzire però a quanto pare vende e ha venduto un sacco ok passiamo al prossimo descrizione top tipica dropshipping vedete con le prime due frasi che parlano del problema che risolve di come di cosa succede dopo che l'ha risolto le caratteristiche chiave 50% in meno solo per oggi ovviamente poi domani magicamente lo sconto rimane ancora attivo ok video carino anche se non di altissima qualità 29.000 likes 4.600 commenti 11.000 condivisioni ok top andiamo a vedere tanto quanto costa 4 dollari 7 dollari ok questa è una torcia quindi super professionale guardate che video incredibile che abbiamo sempre sull'express video di una qualità eccezionale professionali con le scritte in inglese questo si può usare tranquillamente come video inserzione anzi dovete usarlo credibile perfetto cioè proprio lo stile dropshipping fa vedere cosa fa le caratteristiche del prodotto l'unica nota negativa di questo prodotto che alla fine comunque è una torcia anche se in verità è una torcia super potente cioè non è una torcia normale quindi in verità è un prodotto speciale che non si trova proprio facilmente in giro così di questa qualità e soprattutto con questo marketing quindi dovete sempre calcolare questo che è vero che magari sono prodotti che si possono trovare in giro su Amazon però voi puntate tutto sul marketing ok sul vostro sito sul vostro brand è lì che fate veramente la differenza e se avete queste immagini di qualità di una qualità del genere veramente cioè guardate che immagini top super high quality veramente avrete vantaggio competitivo enorme andiamo a vedere sul sito come lo vendono ok immagini qui con un bel po' di colori questo vedete è un one product store credo vediamo un po' se vendono altro ah no no prodotto di nicchia però principalmente nicchia luce comunque nicchia camping luce in generale ok con le torce va bene nicchia store ottimo ovviamente faranno un bundle qui spero ah non fanno un bundle lo vendono diretto così 50 dollari noi pagano 7 margine decisamente alto sicuramente questo è un prodotto top ok ci piace ci piace decisamente non male vedete con lo slogan fatto per i militari però è usabile da chiunque utilizzabile da chiunque perfetto siamo prima di passare al bonus abbiamo visti tutti questi qua sì ok perfetto sì sì l'abbiamo già visti tutti siamo quindi partiamo quindi dall'ultimo continuiamo con l'ultimo prodotto e ti ricordo ovviamente prima di aprire l'ultimo prodotto che per ricevere questa lista gratuitamente devi solamente iscriverti al canale proprio qui sotto attivare la campagna di linea delle notifiche mettere like commentare con l'hashtag shopifydropshipping proprio sotto questo video fare la tua domanda andrò a risponderti personalmente iscriverti al mio sito web montanabusinessonline.com gratuitamente puoi iscriverti tramite questo link montani e commerce master accesso 10% gratuito del programma avanzato completo ovviamente e seguirmi su instagram stefano montanareal ok una volta che avrai fatto tutte queste cose potrai iscrivermi su instagram e ti invierò tramite le mail che mi darai questo file completo ok con tutti i link con tutti i competitors con tutti i facebook ads poi se ovviamente vuoi fare il salto di qualità c'è montana con i products ovvero lo strumento che ti mettiamo a disposizione noi con il mio team all'interno del quale ogni giorno hai un nuovo prodotto vincente al giorno con i competitor facebook ads il copy da utilizzare tutto ciò di cui hai bisogno per vendere quel prodotto vincente alla sta grande e ovviamente ogni giorno te ne diamo uno nuovo quindi hai tutto questo e molto di più all'interno di montana con i products ovviamente link in descrizione e devi solamente accedere ok quindi mi raccomando fai tutte queste cose concludiamo quindi con l'ultimo prodotto bonus ok sto capendo cos'è il prodotto vediamo un po' dei video che costa 6 dollari bike quindi è uno strumento per la bicicletta ma un bel per 5 quindi a 30 dollari ovviamente con la spedizione bisogna anche calcolare brandizzato chissà se è vero quindi ah un prodotto questo è un niche store andiamo a vedere il video si niche store vedete che hanno messo anche il loro sito sul video per non farselo rubare così in un po' trasparente ok praticamente è uno strumento per biciclette per rimuovere la ruota sgonfia o in genere la ruota cambiarla ok decisamente nicchia perché comunque cioè in verità no perché tantissime persone vanno in cielo con la bicicletta quindi ottimo ottimo il sito fatto veramente bene bianco e nero che dà il senso di comunque luxury quindi di un prodotto che comunque costa costa più di qualità questo mi sa che è lo stesso stesso video di facebook se non erro ok immagine di qualità con il loro logo quindi questo è un private label anche se vi ricordo ragazzi che il private label si può fare anche tramite dropshipping agent quindi in Cina basta che ovviamente avete dei soldi per comprare un po' lo stock prima e ovviamente assicurargli un cioè un quantitativo di ordini sufficiente perché altrimenti il dropshipping agent che si mette lì a fare magazzino a spedervi la roba non non vale la pena fare tutto questo se non avete un quantitativo di ordini decisamente alto ok quindi potete fare sicuramente private label direttamente in dropshipping dalla Cina anche ovviamente insegno tutto questo nel programma avanzato in Montana e Commerce Master ok quindi questo è anche proprio uno store di nicchia e vende tutte queste cose per bicicletta ottimo che comunque tantissime persone vanno in giro con la bicicletta sono tutte cose che possono essere utile per chiunque quindi ottimo sito questo vi consiglio di fare ragazzi è questo che vi insegno proprio a fare nei programmi avanzati ovvero partire da una nicchia niche store focalizzarsi su quello fare tanti prodotti in quella nicchia specifica e sicuramente sarà in grado di vendere di più perché la gente si fida di più come in questo sito che come vedi c'è proprio il suo brand e trasmette proprio il senso di essere un sito un brand vero anche se questo logo non mi fa impazzire però hai capito cosa intendo mettere il logo sul prodotto e ovviamente questo è proprio il passo definitivo che devi fare per diventare un brand vero ovviamente la gente si fiderà di più come abbiamo detto e sicuramente comprerà differenti cose quindi puoi offrire dei bundle quindi compra questo più questo con il 20% in meno ok quindi è questo lo scopo di creare un brand simil brand o comunque un private label che è superiore sicuramente a dropshipping ok vi permetterà di guadagnare di più sia nel medio e lungo termine che ovviamente fidelizzando i clienti che si fideranno di più di voi e ovviamente comprando da voi avranno un'esperienza d'acquisto più efficiente e compreranno di nuovo da voi continuano a comprare quindi per questo video è tutto fai tutto quello che devi fare come ti ho detto in precedenza mi raccomando non fare le cose a caso un abbraccio ci vediamo al prossimo video